Tanya Cushman Revisore Tanya Cushman Revisore Buonasera a tutti, sono molto emozionata, lo so, ve l'hanno praticamente detto tutti, oggi, ma sono emozionata per la duplice responsabilità che ho un po' sulle spalle. Chiudo questi speech del primo TEDxSapienzaU e poi insieme alle colleghe che avete sentito oggi rappresento un po' la mia generazione, no? La nostra generazione, la generazione Z. Lo so, lo so. Siamo un po' quel giano bifronte contemporaneamente rivolto agli anni Ottante, a Futurama. Siamo quella zona grigia nella storia contemporanea fatta di pensiero positivo, battaglie per l'inclusività e stress post-traumatico congenito, lo so. Ma siamo anche una generazione appassionata, frizzante, pittoresca. Certo, chiamata solo ad affrontare le sfide più ardue mai vissute dall'uomo a livello globale, ma, insomma, siamo la fortuna dei terapisti. Da classicista, poi, e quindi più interessata ad antichità perdute che a quello che ho effettivamente sotto il naso, godo di un inquietante vantaggio. Vi spiego. Immaginate casa vostra, la casa della vostra infanzia nel quartiere in cui siete cresciuti e pensate che accanto vi sia una collina abbastanza alta dalla quale potete vedere lo stesso luogo ma da lontano, da una prospettiva che vi esclude dal contesto. Vi sembrerà di essere contemporaneamente dentro e fuori. Ecco, così è come mi sento io. Qual è il vantaggio? Beh, allora, il vantaggio, ovviamente, è l'oggettività dello sguardo esterno. Un privilegio che mi ha permesso di capire che tutto questo grande fermento generazionale conosce ancora una pericolosa zona opaca. Ma ci torneremo tra poco. Intanto, per i prossimi dieci minuti, facciamo un patto, un po' come a teatro. Dimenticate chi sono e lasciate che vi parli di una cosa veramente molto importante per me, perché oggi sono qui con voi per parlarvi di progresso scientifico. Un po' come dice la mia presentazione. Ecco, vi ho portato un testo per l'occasione. Ora, non spaventatevi, andò non solo a leggerlo, ma anche a tradurlo per voi. Allora, Uto iaparches pantatheoit nettois jupedeixan alla cronozetuntes e feuris cusin amenon. Traduzione. Ma gli dei non hanno dato ai mortali, fin dal principio, ogni cosa. Non gliel'hanno rivelata. Ma, con il tempo, essi ricercando, trovano di volta in volta il meglio. Ecco, questo è il frammento 18 dell'edizione di Elskrans di Senofane di Colofone. è un poeta greco del VI secolo a.C. e questa è la prima definizione della moderna idea di progresso occidentale. Ho evidenziato alcune parole per l'occasione e andremo a leggerle e commentarle insieme. La prima è jupedeixan. Ora, è un auristo che, come molti di voi sapranno, è l'incubo di tutti gli studenti del liceo classico. Ma è un tempo verbale che indica un'azione che è iniziata e terminata in un passato ben preciso. Si tratta di un verbo un po' della rivelazione. Vuol dire io mostro, io rivelo, io espongo. Senofane qui ci sta dicendo che non crede più al mito di Prometeo, quindi a quel fuoco della conoscenza infuso in un'epoca ancestrale. No, ci dice che gli dei non ci hanno rivelato tutto dall'inizio, ma avversativa, e questo ci porta alla seconda parola, crono, con il tempo. È un dativo e ci dà il senso della durata di un'azione. Quali sono queste azioni? La prima è espressa da questo bellissimo participio presente che viene da Zeteo e vuol dire io ricerco o cerco. Ha una forte valenza fisica, un po' come quando voi perdete il telecomando nei meandri del divano e voi state lì. Qui non c'è. Stai lì a cercarlo con la mano. Zeteo ha proprio questo senso. E quindi sono quegli uomini che cercano, cercano e ricercano. Questa sfumatura iterativa ce l'abbiamo non solo dall'uso del presente, ma anche dal dato temporale che abbiamo visto prima, crono. e proprio perché ricercano, trovano e feuriscusi. Usa un'altra volta il presente, perché senofane non vuole essere profetico. Non ci dice che sicuramente gli uomini troveranno qualcosa, ma ci dice che chi cerca prima o poi qualcosa trova. Ecco, in questi due versi senofane, che è lontanissimo da noi per cultura, epoca storica, area geografica, la persona più lontana da noi tra tutte, riesce a comunicare efficacemente la nostra idea di progresso. E comunicare non è semplice, no. Anzi, è un'azione che noi spesso confondiamo con un'altra azione, che è il fornire delle informazioni. Senofane non ci sta dando delle informazioni o dei dati precisi, ma vi assicuro che il suo pubblico aveva perfettamente compreso e soprattutto condiviso il suo pensiero. Perché senofane non è un pensatore originale, questo è un errore che spesso facciamo con i classici, pensiamo che tutti i grandi poeti siano pensatori originali, ma no, non esiste l'originalità nella Grecia antica. Se dei versi del genere sono sopravvissuti fino a noi, vuol dire che erano assolutamente condivisi. non è questo il bello di una comunicazione efficace, il fatto di oltrepassare il tempo e lo spazio. Ma come fa una comunicazione ad essere efficace? Beh, ho evidenziato un'ultima parola, questa è amenon, è un aggettivo al grado comparativo, l'abbiamo tradotta come il meglio. Ora, senofane sicuramente conosceva Omero, e quindi ha fatto una scelta ben precisa. non ha detto Ariston. Cioè, bello, altisonante, poetico, omerico, la cosa migliore tra tutte... No, 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 no. No, perché senofane non è un illuminista. Come non pensa che gli dei abbiano rivelato tutto subito in un'epoca ancestrale, non pensa nemmeno che gli uomini possano fare miracoli. Ma, attenzione, perché qua arriva il bello in tutti i sensi, perché il grado zero di questo aggettivo è Agathos. Ora, io non so chi di voi abbia fatto questa esperienza mistica del liceo classico, ma chiunque di voi abbia fatto il liceo classico si ricorderà sicuramente questa espressione Kalos kai Agathos. Bello e buono. Ora, un po' come Achille. Achille è bello e buono. Ma, se per bello possiamo pensare a Brad Pitt in Troi, per buono dobbiamo fare uno sforzo in più. Buono è tutto il complesso di valori condivisi all'interno di una comunità. In greco ha una forte valenza etica. Dunque, il progresso di senofane è una continua ricerca di ciò che di volta in volta è considerato il meglio per una comunità. e il risultato non può che essere positivo perché l'uomo che ricerca, pur sbagliando, sbaglia credendo di fare il bene della comunità perché per la comunità ha una forte responsabilità. e voi mi direte, vabbè, ma senofane è un poeta? Che ne sa lui del progresso, di quello che è bene per la comunità? No. Perché senofane non è solo un poeta. Senofane è un poeta, è un filosofo, in un periodo in cui la filosofia è scienza. Sì, anche lei che non ci crede è scienza. Ma non solo. Senofane è poeta, filosofo e scienziato in una cultura in cui questi non sono mestieri. Senofane aveva un altro mestiere. È un uomo colto, quindi possiamo immaginare che lui nella opulenta colofone del VI secolo fosse un ricco proprietario terriero, quindi un cittadino, e dunque ricopriva tutti i suoi doveri, oneri politici e civili partecipando attivamente alle guerre, che erano tantissime in Grecia, e partecipando attivamente ai processi in tribunale. Quindi per lui è naturale che il progresso non possa essere individuale, non possa essere raggiunto all'interno di una biblioteca o di un laboratorio. Perché la responsabilità della ricerca cade sull'uomo. Anzi, sugli uomini. Zetuntes e Feuriscusi sono tutti plurali. Ovviamente questa non è farina del mio sacco, anch'io come senofane non sono un pensatore originale, ma sono stata ispirata da quest'uomo. Questa foto è bellissima, è anche lo sfondo del mio desktop, del computer. Lui è Hans Jonas, e nel suo saggio sul principio di responsabilità della scienza scrive che l'uomo, soprattutto nella storia contemporanea, ha imparato a controllare la natura a suo piacimento. Però spesso ci dimentichiamo del fattore etico. E sì, perché l'etica, secondo Jonas, ha due fattori. Uno positivo, che è anche oggettivo, e uno soggettivo. Uno risponde alla ragione, l'altro al sentimento. Ed entrambi sono assolutamente complementari, perché se il richiamo al dovere esclude la sfera del sentimento, l'uomo non ha più alcuna forza motivante che modelli e indirizzi il suo agire. E quindi uno scienziato, secondo Jonas, rischia di diventare un prometeo scatenato, perché non ha più interlocutori etici. Anzi, al giorno d'oggi non ne ha affatto. No? Lo abbiamo visto? Durante la pandemia molti scienziati, studiosi, sono stati chiamati a uscire dalla loro comfort zone di laboratorio per comunicare a un pubblico profano quello che stava semplicemente accadendo. Un disastro. Le conseguenze di tanti talk show e interviste sono state panico e ignoranza. Perché? Ma perché il progresso non è più a diretto contatto con la comunità. Ma perché è soltanto quella empatia, quella particolare condivisione di valori positivi e soggettivi a rendere una comunicazione efficace, come i versi di Senofane, e a rendere ogni ambito del sapere attivamente partecipe. noi tutti siamo convinti che l'iperspecializzazione sia la chiave del successo accademico. Sì, lo è, indubbiamente, individualmente. Ma... a che prezzo? Voglio chiudere con una nota di positività. Beh, lui... dai. Lui non ha bisogno di presentazioni. È Telmo Pievani, è un abituo del TED, è un filosofo evoluzionista e... all'Università di Padova fa una cosa... fa una cosa bellissima. Lui ricopre la prima cattedra in Italia di filosofia delle scienze biologiche per il Dipartimento di Biologia. Cioè, questa è l'avanguardia pure, la bellezza del XXI secolo. Anche se Telmo, come vedete, non è proprio un grande rappresentante della generazione Z, è un po' piagé, ma... Come vi dicevo all'inizio, la generazione Z, in questo ambito, la generazione Z che, attenzione, è pur molto prodiga ed è molto aperta all'inclusività, alla contaminazione. Nell'ambito accademico conosci ancora diversi tabù, se si può dire. Me ne sono accorta a un convegno. Era il mio primo convegno e mi ero appena laureata, insomma. E... ci andai un po' come si va al primo appuntamento, no? Con una persona che ci piace tanto. E... questa cosa mi emoziona particolarmente perché in sala c'è qualcuno che mi dà questi feels. E... e quindi, un po' come si fa, al primo appuntamento mi ero preparata, ho avuto un bel discorsetto davanti allo specchio, stile Truman Show, per rispondere un po' brillantemente alle domande di rito. Quindi, chi sei? Da dove vieni? Ero tutta emozionata, arrivo lì, nel mio bel vestito e vengo accolta da questo essere mitologico spartiacque. Noi, per brevità, lo chiameremo Minosse. Lei? Lei? Di che si occupa? Di che si occupa? Io non sapevo come rispondere a questa domanda. Me l'ho preparata a 3.000 discorsi, ma questa proprio... ma poi, di che si occupa? Ma che significa? Cioè, mi ero appena laureata con una tesi compilativa, ero in preda al panico, cerco di... di dissimulare, dico la prima cosa che mi viene in mente, filologia classica. Si accomodi con altri filologi. Cioè, ovviamente, non c'era una precisa disposizione, ognuno poteva sedersi dove voleva, ma il nostro simpatico Minosse aveva dato un po' per scontato che avrei avuto maggiore affinità con altri filologi. Anzi, probabilmente una studentessa sbarbatella, un po' snob, molto irrigidita, e vestita di tutto punto come me, non poteva fare altro che parlare con i filologi. Ma, capite, lo ha dato per scontato. Non era una legge, era proprio una radicata e profonda disposizione culturale, una convinzione. Eppure, Minosse era della generazione Z. Grazie.